Lavoratori alla riscossa! La parola Chiara Pioleoni, la studentessa del liceo Montaglio. Buonasera, sono la studentessa del liceo Montaglio e mi trovo al terzo anno di liceo in Messico e quest'anno ho iniziato la prossima prossima lavoro e da sto vivendo diciamo giorno per giorno. Noi siamo costretti a fare 200 ore lavorative in questi tre anni che si dividono in 60, 70 e 50. In queste ore noi dovremmo fare un tot di ore extra scolastiche, quindi pomeriggio, e un altro tot studiore durante l'orario scolastico. Nel nostro liceo il problema principale è stato che le ore sono stati messi troppo durante l'orario scolastico, quindi i professori poi sono ritrovati in diretto con i programmi e il gioco a chi noi siamo dovuti accorgere con il studio e con le varie ore di assente. Il secondo problema fondamentale secondo me è stato che non ci sono stati evitati le possibilità per fare un lavoro o magari qualcosa di più umiliato verso i nostri indirizzi di studio, poiché infatti gli ultimi due giorni dell'alternanza si sono andati alla Università della Matera alla sede di geologia per fare degli acerbilei che sono durati dalle otto di mattina fino alle due e abbiamo un modo di durare di pietre, di geologia appunto, più essendo noi un ufficio di un ufficio e quindi penso in contestandoci da un uomo di scuola. e quindi secondo me non sono state delle ore produttive che mirate in qualcosa che poi mi servirà in futuro lavorativo. E essenzialmente questo perché mi troppo ho credenzato questo un saltenato grazie 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 grazie